Incontri nelle scuole e collaborazione con l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Sono queste le principali linee di intervento che seguirà l'osservatorio sul fenomeno dell'usura insediato a Palazzo Lascaris per la decima legislatura. All'incontro, aperto dal presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, presieduto dal consigliere segretario Gabriele Molinari, sono intervenuti esponenti delle fondazioni anti-usura, rappresentanti della Prefettura di Torino, delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni dei Consumatori ed esperti in materia di lotta all'usura. La nostra attenzione è sicuramente a far sì che le istituzioni siano al loro interno e all'esterno un presidio di legalità e essere attenti e consapevoli delle difficoltà che i cittadini, le imprese vivono. Quindi cercare anche di costruire dei canali attraverso i quali le persone, le imprese possano dialogare con gli altri attori, insomma chi eroga il denaro, chi deve vigilare sul rispetto di determinate regole. Noi abbiamo ecco questa funzione, una funzione educativa e allo stesso tempo una funzione di monitoraggio. Credo che questo osservatorio l'abbia assolta sempre in maniera molto seria, molto scrupolosa, quello che personalmente anche come osservatorio intendiamo fare è continuare su questa strada.